Benvenuti a una nuova puntata di Dr.Penis. Oggi abbiamo qui con noi Gaetano. Gaetano ha 51 anni, è stato operato, aveva un problema di deficit rettile su base venosa, aveva un'insufficienza venosa, c'era pure un po' di calo del testosterone, però fondamentalmente aveva un problema di natura vascolare, essendo molto giovane non è un paziente diabetico, non ha particolari patologie, un problema venoso che da tanti anni lo affliggeva. Il prossimo 2 ottobre sarà un anno che è stato operato, ha fatto un impianto di protesi tricomponente idraulica con l'accesso mini-invasivo. Siamo qui oggi con Gaetano che ci dà una testimonianza della sua esperienza a distanza di un anno dalla procedura chirurgica. Gaetano come stai? Io so benissimo, dottore, la ringrazio di questa politica che mi ha dato. Infatti come ha detto il dottore sono quasi un anno a breve, farò un anno da questo impianto protesico, la mia vita è cambiata in medio, sia sessuale che diciamo anche nella vita quotidiana, perché ho riacquistato sicurezza in me stesso come uomo. Ho tranquillamente una compagna adesso, dopo purtroppo la mia vita matrimoniale che è andata, insomma, come è andata. Quindi la mia compagna è soddisfatta di me, io sono soddisfatto della mia vita, quindi posso solo che parlare bene sia del dottore che del professionista che è, e sia insomma per avermi condotto parlando con lui e vedendo i problemi che avevo, avermi condotto all'operazione. insomma. Senti, dimmi una cosa, le donne se ne accorgono? Le donne non se ne accorgono assolutamente, io ho il mio pene, quindi forse si accorgono insomma della mascolinità, nel senso positivo, ma assolutamente non si vede nulla dall'esterno, non... ripeto, non ho avuto mai problemi, non... La sensazione com'è con la protesi? Cioè, ti sembra di avere una protesi, oppure il rapporto è naturale, fisiologico, l'orgasmo, le iagulazioni, come sono? No, assolutamente, tutto è naturale, ormai la protesi fa parte di me, quindi non... Cioè, lo so di averla, però non la sento, il rapporto va tutto bene, l'orgasmo bene, l'eagulazione bene, cioè, non... d'altrò del mio pene, diciamo, quindi, anzi, è migliorato tutto, nel senso che adesso non mi devo concentrare più sull'erezione, quindi posso godermi tutto dal primo all'ultimo minuto, come, insomma, come dovrebbe essere così. Senti, tu sei di Taranto, sei venuto a Roma, quindi hai affrontato anche un viaggio, hai una base d'appoggio, perché qui c'è tua sorella, mi sembra di ricordare, come è stato questo spostarsi da casa? Perché tante persone non affrontano l'intervento anche per paura di spostarsi, magari c'è chi parte da un'altra città e dice, no, non mi va di andare a Roma perché è troppo lontano, tu come l'hai vissuta e soprattutto come sei stato nella struttura dove ti abbiamo ricoverato, come è stato il decorso post-operatorio, se ci racconti un attimo. Sì, allora assolutamente no, queste operazioni sono comunque operazioni delicate anche per il dottore Antonini, che è qui affianca a me, non per elogiarmi, ma ormai sono diventati di Rutelli perché fosse uno dei massimi esperti di impianti protesici per l'uomo. Quindi assolutamente no, tenete presente che, vabbè, del corso post-operatorio è un po' di dolore normale, voglio dire, stiamo parlando anche di una parte particolare, no, quindi sicuramente sì, però tenete presente che io sono venuto con un autobus a Roma e me li sono andato col treno, quindi voglio dire, sono andato via con le gambe mie, mi sono messo il borsone in spalla e sono andato. Quando sono tornato a Taranto sono tornato, sono venuto qua con un deficit, sono tornato a Taranto con qualcosa in più, rinato, quindi io verrei anche a Pid, se ce la facessi, verrei anche a Pid di nuovo per affrontare queste operazioni. Quindi assolutamente no, perché io vi consiglio, una volta individuato, e ripeto, tranquillamente un po' di te, rivolgi al dottor Perlini perché è un massimo esperto, ma diciamo, una volta individuato, forse esperto e rifiutoso, quantunque fosse a Milano, a Civitavecchia, cioè ci andate tranquillamente perché avete dovuto risolvere un problema, cioè, quindi voglio dire. Lo rifaresti? Io lo rifarei tranquillamente, non ho problemi di sorta a dirlo perché mi ha cambiato la vita, ripeto, e quindi... Sei felice? Vale, sono felice, sì. Bene. Senti, l'ultima cosa, poi chiudiamo, quella brasiliana che hai incontrato, che ti ha detto? La brasiliana, dopo un po' di tempo, perché ormai, diciamo, nel senso che, ripeto, non concentrandoci sull'elezione, riesco anche a durare di più rispetto a... con tutto il rispetto per gli altri uomini, però è un dato di fatto, quindi mi dice che berga che hai, no? Berga, andate su Google che significa, quindi non ve lo spiego io, nel senso che ovviamente l'elezione è al massimo e anche di più, quindi non ci sono cali durante, diciamo, l'atto sessuale, questo è importante, ripeto, anche per la vostra compagna, fidanzata, moglie, no? Penso che sia così, invece di andare con un altro uomo, parlando chiaramente, magari alla verga, ce l'avete voi e rimane con voi, ecco, è questo, ho riassunto, no? Ho estremizzato il concetto, però poi alla fine è così, è vero che un uomo e una donna vengono uniti dalla burra, però ci sono le scappatelle, non le fate scappare, le fate rimane con voi. Va bene, che dà? Ok, grazie, Ben, sono contento, sono felice. Ok, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.